eccoci qua ben trovati io sono in pineta a montecatini terme insieme a clara mingrino e nick eccoli clara ciao buongiorno eccolo nick ciao nick allora clara parliamo da amici animali dog pride day cosa è successo dall'anno scorso dall'anno scorso niente stiamo già lavorando per la prossima edizione che ci sarà il 19 maggio c'è una particolarità c'è una particolarità perché quest'anno grazie anche all'input che mi ha dato la mia collega e animalista convintissima giulia fiore abbiamo associato al dog pride un concorso praticamente un concorso rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie dell'abbandonevole ma non solo inventa uno slogan contro l'abbandono realizza l'abbiamo chiesto graficamente invia la foto poi alla mail del nostro sito del dog pride day cioè info chiocciola dog pride day punto it e i primi 10 disegni più belli che la giuria qualificatissima sceglierà sarà l'ha detto in una maniera qualificata certo assolutamente perché ho inserito anche delle mie colleghe di arte nella mia scuola quindi proprio sarà e oltre ovviamente volontari del canile eccetera certo saranno premiati la mattina del dog pride che bello che bello con premi da definire con premi da vabbè la partecipazione è già un premio perché aiutare questa manifestazione e coinvolgere i bambini è già quello quindi l'importanza dei nostri amici animali è certo che spesso sono trattati male troppo troppo quello quello sempre perché basta guardare anche su internet quello bruciato piccato è una tragedia io tra l'altro mi evito anche spesso di condividere queste notizie perché secondo me si crea io ve lo dico e ve lo dico io le cancello le notizie perché purtroppo non è per non sensibilizzare ma una cosa assolutamente allucinante si possono creare degli emulatori ma che ce ne sono già tanti perché chi fa male agli animali fa male a le persone tra l'altro quest'anno abbiamo a fare vari gadget del dog pride una maglietta nuova con il logo praticamente quasi deciso dai ragazzi delle mie due prime prima della prima di del pasquini perché clara è un insegnante è un insegnante appassionata di bambini di territorio d'animale praticamente non dormi mai te non dormi mai no in effetti dormo un po poco dormi poco un po sotto alla famiglia anche tuo figlio scrive gira al mondo scrive racconta ora scrive poesie un libro di musica quindi di tutto di più poi dicevi una cosa carina relativamente al Nepal mi sembra se ne parlava una cosa simpatica ci stiamo attivando anzi ci siamo già attivati per invitare il consul l'onorario del nepal è un significato perché loro tutti gli anni festeggiano il cane cioè proprio per ringraziarlo della fedeltà dell'aiuto che possono dare eccetera eccetera fanno questa festa del cane che ora sinceramente il nome in nepalese e la passiamo questa della passione e quindi ci piaceva visto che loro fanno questa sorta di festa anche il dog pride in pratica e celebriamo l'amicizia la fedeltà del cane quindi facciamo questa sorta di gemellaggio ci ricordi quindi l'evento per i bambini e la mail allora l'evento è il 19 maggio si comincia alle 9 con il raduno in piazzale delle fiamme gialle qui in pineta alle 9 e mezzo si parte con la solita passeggiata guidata dal corpo musicale don francesco martini di villa basilica alle 10 e mezzo forse anche prima siamo di nuovo in pineta con le esibizioni di spero guardia di finanza sicuramente disc dog con riccardo vegnali riccardo vegnali e francesco bardi e dog dance con gianni orlandi e poi chissà e poi tantissime premiazioni non solo per adozioni di fatti al canile di monte catina canile ermada ma anche abbiamo quest'anno praticamente 11 sindaco due sindaci e praticamente no anzi tre sindaci perché vengono da avellina la provincia d'avellina quindi anche le amministrazioni impegnate a favore degli animali ci ricordi le mail dove i nostri bambini devo inviare info chiocciola dog pride day punto it allora e viva i nostri amici che entro possibilmente il 10 maggio assolutamente va bene e viva i nostri amici pelosi grazie ciao a tutti